Lentini, screening gratuiti e occhiali usati da donare ai meno fortunati le iniziative dei Cavaliere della Luce. Screening gratuito della vista del 10 marzo a Carlentini, raccolto occhiali usati fino ad aprile su tutte e tre i comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte. I Lions dei Lentini, presso tutto dal Presidente Angelo Lopresti, continuano il loro impegno nel campo della conservazione della vista tramite attività sia a livello locale che internazionale, con service specifici come raccolto occhiali usati da destinare ai meno fortunati e lo screening gratuito della vista. Perciò il Sodalizio Lentini a partire da gennaio ha avviato sui tre comuni una raccolta di occhiali usati che ha già fatto registrare un numero elevato di occhiali donati. L'iniziativa continuerà fino ad aprile ed è sostenuta oltre che dai soci del club anche da tanti volontari. Inoltre sono state organizzate anche dei punti di raccolta presso la parrocchia San Francesco di Francofonte e nei diversi istituti comprensivi del triangolo agrumicolo presso un supermercato ed uffici pubblici. Per quanto riguarda invece il controllo della vista, il prossimo 10 marzo dalle 9 alle 13 in piazza Diaz a Carlentini è programmato lo svolgimento del service che prevede uno screening gratuito dell'apparato della vista grazie alla presenza di un camper appositamente attrezzato. La visita ai pazienti sarà fatta dall'oculista e socio Lions Renato Patti e entrambe le iniziative sono promosse dal governatore del distretto Lions 108YB Maurizio Gibilaro dal coordinatore aria vista Massimo Di Pietro, dal delegato screening vista Pietro Zola in collaborazione con la presidente della settima circoscrizione Maria Catalano e il presidente del club di Lentini Angelo Lopresti.